Come si sceglie il colore di un'auto, anzi di una Urus? E questa scelta cosa dice della nostra personalità? Lo scopriremo attraverso le risposte dei nostri ospiti. Prego ragazzi. Non posso dirlo, direi affidabile. L'anima della festa perché sono creativo originale. Sceglierei dei colori neutri pieni di stile, forse scriverei una frase. Per la mia opera toni molto caldi, molto accesi, digitali, contemporanei. Se l'arancione avesse un suono, quale sarebbe? Non so, mi immagino una musica da surfista. L'inizio di un qualcosa, l'inizio di una sinfonia. Forse adesso sceglierei Marrakesh. Posso dare due risposte? Stoccolma non si direbbe, ma mi piace molto. E anche le Galapagos per vedere se Darwin ceva veramente ragione. Noi andiamo. Chiudi. Alla prossima.